Rifiuti oggi niente raccolta dell'umido che ha subito l'ennesimo stop per la saturazione dell'impianto di contrato a Santa Maria. Si lavora per individuare un'area di stoccaggio in attesa dell'autorizzazione all'ampliamento dell'impianto. Democrazia partecipata, visto che l'amministrazione è riuscita a trovare i fondi per le vie dei tesori, adesso si adoperi per finanziare tutte le 13 proposte avanzate da cittadini e associazioni. E' la richiesta del Movimento 5 Stelle. Sicurezza stradale sono 156 ponti che saranno monitorati in provincia dell'Igento attraverso incarichi a liberi professionisti. Si punta a verificare le condizioni in cui versano i viadotti in un territorio assai vulnerabile. Perso la soppressione della casa di riposo di Caltabellotta, l'ente ha accumulato troppi debiti e il commissario ne ha deliberato l'estinzione. Una storia che conferma come le fasce più deboli continuano ad essere calpestate. Ambiente, iniziativa del Rotary Club di Shaq che questa mattina ha distribuito borracce ecologiche agli alunni dell'Inveges e del primo circolo. Obiettivo puntare sul valore dell'ambiente e contro l'uso della plastica. Sport e calcio, ancora una brillante prestazione dell'Unitas e Shaq che ieri al Gurrera ha centrato la terza vittoria consecutiva nel campionato di promozione contro il Castel Termini grazie alle reti di Cortese e Galluzzo. Un cordiale benvenuti al nostro telegiornale. In apertura la raccolta dell'umido si lavora per individuare un'area di stoccaggio dei rifiuti in attesa che la Sogeir acquisisca le autorizzazioni per l'ampliamento dell'impianto di Contrada Santa Maria. E' questa la novità sul fronte della raccolta della frazione umida che oggi ha subito un nuovo stop e che dovrebbe riprendere da mercoledì. Sentiamo. Centro e periferie tutto sommato decorosi stamattina dove non sono stati esposti mastelli e sacchetti dell'umido dopo l'ennesimo stop alla raccolta a causa della saturazione del centro di compostaggio. Allora, mercoledì dovrebbe esserci la raccolta in maniera corretta. Questo per quanto comunicato ci è da parte della Sogeir Regis che potrà accogliere i rifiuti il mercoledì dalle ore 11 in poi. Quindi con le ditte abbiamo concordato che si potrebbe fare la raccolta mercoledì e non dovrebbe esserci problema alcuna. Nemmeno ovviamente per domani per la raccolta della plastica. Sta diventando ormai un appuntamento quasi con cadenza settimanale. Come si lavora? Si sta lavorando delle soluzioni? Che tempi ci possono essere? Purtroppo che la situazione sia sempre peggiore, l'avevamo già detto da diverso tempo, perché l'impianto di compostaggio di Contrada Santa Maria non è idoneo, l'avevamo detto in tutte le salse, ad accogliere i rifiuti di 17 comuni. Si sta cercando di allargare l'impianto di compostaggio. Questo ci dovrebbe pensare ovviamente alla Sogeir Regis. E dall'altro noi stiamo provvedendo anche a trovare una soluzione alternativa con magari un'area di stoccaggio autorizzata che possa ricevere il nostro rifiuto umido in attesa di portarlo poi all'impianto di compostaggio. Si lavora dunque per evitare nuovi disservizi e problemi nella raccolta, ma è evidente che non si tratta di soluzioni immediate. Io spero vivamente di no, perché ovviamente il problema è un problema di tutti, è un problema anche mio. Io non ho il piacere di comunicare, così come scrivono tantissime persone, di comunicare la sospensione. È un problema anche mio. Io cerco di risolvere insieme all'amministrazione, insieme al sindaco, di risolvere la problematica. Spero di riuscirci nel più breve tempo possibile. Però ripeto, è un problema di impianto che in questo momento non è sicuramente utile per i 17 comuni. E' stato creato il lotempore non per questa grande mole di rifiuto differenziato. Noi abbiamo raggiunto dei livelli di raccolta differenziata importanti. Siamo il primo comune della Sicilia con azione superiore a 20.000 abitanti. Però nel momento in cui abbiamo una produzione di umido maggiore, ovviamente abbiamo delle problematiche sicuramente maggiori. E' un grande controsenso. Purtroppo sì. Devo dire che comunque con l'approvazione del bilancio noi abbiamo previsto anche l'estensione del sistema porta a porta nelle zone che in questo momento ne sono sprovviste e questo causerà sicuramente un aumento sia della raccolta differenziata ma anche un aumento dell'umido. Quindi i problemi necessariamente devono essere risolti. Democrazia partecipata 2019. Il Movimento 5 Stelle di Sciac chiede all'amministrazione di finanziare tutte le 13 proposte avanzate dai cittadini, associazioni e comitati. È l'occasione per dimostrare che si trovano i fondi anche per le iniziative proposte dai saccensi. Il riferimento dei pentastellati è alla recente manifestazione denominata la Via dei Tesori. Sentiamo. E' stata una norma proposta dal Movimento 5 Stelle nella legge finanziaria regionale del 2014 a prevedere che i comuni siciliani spendano almeno il 2% del trasferimento complessivo ricevuto dalla regione in forme di democrazia partecipata utilizzando così strumenti che coinvolgano la cittadinanza nelle scelte di azioni di interesse comune. E dal Movimento 5 Stelle di Sciac arriva la richiesta all'amministrazione di accogliere tutte e 13 le proposte di democrazia partecipata che sono pervenute. In vista dell'approvazione del bilancio, cittadini, comitati e associazioni di Sciac hanno avanzato diverse proposte di intervento, 13 delle quali sono state ritenute ammissibili a finanziamento. Il problema è che l'importo che il comune di Sciac ha deciso di destinare a tale iniziativa è di 10.778 euro e dunque la maggior parte delle proposte, pur dichiarate ammissibili, non verranno finanziate. Non a caso si sta generando una vera e propria caccia al voto da parte di associazioni e comitati. La scelta tra i 13 progetti verrà fatta sulla base della condivisione da parte dei cittadini e chiaramente ogni proponente sta cercando di accaparrarsi il maggior numero di voti per ottenere il via libera al proprio progetto. Tutte le proposte sono state pubblicate nel sito internet del comune di Sciacca e i cittadini hanno tempo fino al 14 ottobre per esprimere online la propria preferenza. Il Movimento 5 Stelle ritiene invece che tutte e 13 le proposte avanzate siano meritevoli di finanziamento e chiede all'amministrazione di stanziare ulteriori fondi, oltre a quelli minimi previsti dalla legge sulla democrazia partecipata, per poter così coprire il finanziamento di tutti i progetti che sono stati ritenuti ammissibili. Siamo certi che la nostra proposta sia da accogliere positivamente da parte di un'amministrazione attenta ai bisogni dei cittadini e pronta a investire parte del bilancio comunale per iniziative dei saccenzi e per i saccenzi, scrivono. Una chiara provocazione è quella dei 5 Stelle che infatti non mancano di evidenziare come l'amministrazione proprio recentemente abbia trovato i fondi necessari, 14 mila euro, per finanziare le vie dei tesori. Si tratta dell'iniziativa proposta da operatori culturali palermitani, ma che da tanti anni viene effettuata in tante città per la prima volta quest'anno a Sciacca. Non solo, i 5 Stelle lanciano l'ennesima sfida al sindaco Valenti. Una buona amministrazione, sostengono, non può ricordarsi delle minoranze in Consiglio Comunale solo nel momento del bisogno. Questa, concludono, potrebbe essere l'occasione giusta per la Giunta Valenti per dimostrare di accogliere una proposta proveniente da una forza di opposizione e per finalmente dare ascolto alla voce dei cittadini. Anche se siamo pronti a scommettere, sostengono, che neppure questa volta saremo ascoltati. La sezione controllo del territorio del comando di Polizia Municipale Giovanni Fazzio di Sciacca ha sequestrato una sopraelevazione di circa 60 metri situata in contrada Maurici. Il manufatto era in corso di edificazione su un immobile vincolato dalla sovraintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento. Per reati urbanistici e paesaggistici è stato segnalato alla Procura della Repubblica Onsaccenza, proprietario del bene. Sicurezza stradale. In provincia di Agrigento saranno ispezionati e monitorati 156 traponti e viadotti. Un'importante attività di verifica e monitoraggio delle condizioni strutturali che sarà affidata tramite incarichi a liberi professionisti. Ce ne parla il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamedola, con il quale abbiamo fatto il punto anche sul progetto del ponte Cansalamone di Sciacca. 19 incarichi professionali per il monitoraggio delle condizioni strutturali dei 156 ponti della provincia di Agrigento. È una capillare attività di controllo e prevenzione quella che partirà il prossimo mese, come evidenzia il nostro telegiornale, il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamedola. Dopo il crollo del ponte di Genova è cresciuta l'attenzione per la sicurezza delle nostre infrastrutture e quindi la Sicilia ha prontamente, il governo Musumece ha stanziato 5 milioni di euro per il monitoraggio del stato di conservazione e di efficienza strutturale dei ponti che ricadono nel tracciato delle nostre strade provinciali. Qui ad Agrigento, come diceva lei, sono 156 i ponti che saranno ispezionati, che saranno schedati da 19 liberi professionisti che saranno individuati a seguito di procedure di affidamento, che spereremo qui in ufficio entro la fine del mese. I dati acquisiti poi saranno trasmessi al governo, il quale programmerà una serie di interventi finalizzati a superare le criticità che saranno state rilevate con il monitoraggio. L'Ufficio del Genio Civile ha già redatto i documenti preliminari per l'affidamento dei 19 servizi professionali di importo variabile da 22 a 31 mila euro. I liberi professionisti, dal momento dell'incarico, avranno 45 giorni di tempo per consegnare all'Ufficio del Genio Civile le schede con i dati raccolti. Queste attività che di fatto sono meritorie perché denunciano un nuovo interesse da parte della politica del sistema infrastrutturale regionale, diciamo che hanno delle implicazioni positive anche d'altro tipo, per esempio l'affidamento degli incarichi lì per i professionisti, che è una cosa molto importante, che capitalizza i nostri banditipo che sono stati adottati dalla regione attraverso il decreto a firma dell'assessore Falcone dello scorso 5 dicembre 2018. Decreto che ha dotato le sezioni appaltanti dei banditipo e quindi degli strumenti idonei per poter bandire concorsi di progettazione e per poter raffidare i servizi di architettura e ingegneria. Il controllo sull'efficienza dei ponti lungo le strade provinciali per il territorio agrigentino costituisce un passo importante lungo un percorso però già tracciato dal Genio Civile di Agrigento che ha creato un canale preferenziale per i progetti che riguardano infrastrutture importanti, tra queste anche il ponte Cansalamone di Sciacca. Grazie a questo canale abbiamo negli ultimi mesi approvato i lavori per la ricostruzione del ponte Petrusa, abbiamo approvato i lavori per il consolidamento del ponte Morandi, ma abbiamo soprattutto redatto il progetto dei servizi per poter poi affidare alla progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento del ponte Cansalamone di Sciacca che è molto importante per la viabilità interna. Noi riteniamo che questa nuova attenzione nei confronti delle infrastrutture possa in qualche modo far venire fuori la nostra terra, la nostra provincia da quel gap infrastrutturale che attualmente limita lo sviluppo socio-economico della nostra terra. Nella fattispecie, lei mi citava il Cansalamone, io penso che già i termini sono scaduti di partecipazione, quindi diciamo a breve avremo i progetti e quando ci sono i progetti con le prove si potrà anche cominciare a pensare quando questa struttura potrà essere riaperta al traffico cittadino. Beni per complessivi 400 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Agrigento nei confronti di Stefano Tarallo di anni 34, reggente della famiglia mafiosa di Santa Elisabetta e consigliere della famiglia Fragapane. Nel giugno del 2012 Tarallo è stato tratto in arresto nel corso dell'operazione denominata Nuova Cupola, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato alla luce l'esistenza di un vasto progetto di ristrutturazione dell'organizzazione di Cosa Nostra Grigentina. Al momento è detenuto in carcere e a settembre 2018 gli è stato rinnovato il regime di detenzione del 41 bis. Il sequestro ha riguardato, tra immobili, il 62,5% delle quote sociali di una SRL e conti bancari. Si terrà il prossimo venerdì 11 ottobre il nuovo incontro del Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca alle ore 18 in Sala Blasco per ritornare a discutere sulla questione terme. All'Assemblea è stata invitata la deputazione regionale del territorio agrigentino, nello specifico gli onorevoli Catanzaro, Di Caro, Di Mauro, Gallo, Larrocca, Mangiacavallo, Pullare e Savarino, allo scopo di sensibilizzare anche i politici della provincia a vario titolo sull'attuale fase di abbandono in cui versa la risorsa termale di enorme strategica importanza per lo sviluppo economico della città e dell'intero comprensorio. Vi parliamo adesso di una vertenza in atto che riguarda l'ormai imminente soppressione della casa di riposo di Caltabellotta, Rizzuti Sacro Cuore. L'ente, che non funziona più da anni, ha accumulato troppi debiti, compresi quelli con i lavoratori e il commissario straordinario ne ha deliberato l'estinzione. Ne viene fuori una storia che conferma come le fasce più deboli della popolazione continuano a venire letteralmente calpestate. Il servizio di Massimo D'Antoni. Da anni non vedono un centesimo i nuovi dipendenti della casa di riposo Rizzuti Sacro Cuore di Caltabellotta, istituto al centro da tempo di una crisi economico-finanziaria senza precedenti, e dal 2017 sottoposto a commissariamento disposto dalla regione siciliana con una condizione che oggi è letteralmente priva di prospettive. Non ci sono più soldi, il disavanzo accumulato è toccato alla cifra non certo indifferente di 800.000 euro, eppure stiamo parlando di un istituto con una storia gloriosa, riconosciuto ben 81 anni fa con reggio decreto come centro servizi sociale, ovvero IPAB, vale a dire istituto pubblico di assistenza e beneficenza. Un ente, Rizzuti Sacro Cuore, che dunque per la stessa comunità di Caltabellotta è stata una vera e propria istituzione, ricoprendo anche un ruolo fondamentale sia sul piano sociale, poteva ospitare fino a 48 persone anziane bisognose di assistenza, sia su quello occupazionale. Funzionava il Rizzuti Sacro Cuore grazie ai contributi regionali previsti da almeno tre normative approvate sul tema dei servizi sociali e dell'assistenza domiciliare, la prima del 1953, l'ultima del 1986. Leggi che essenzialmente finanziavano la copertura delle rette, soprattutto per i soggetti più bisognosi. Contributi che tuttavia la regione siciliana negli anni più recenti ha periodicamente ridotto fino all'irrimediabile azzeramento e a nulla ad oggi sono valsi i tentativi di sopravvivenza della Casa di Riposo Rizzuti Sacro Cuore, effettuati anche attraverso l'idea di una possibile fusione con altri IPAB del territorio provinciale. E oggi, al punto in cui siamo arrivati, il commissario straordinario nominato nel 2017, si chiama Antonino Mistretta, ha deciso che ogni ulteriore indugio a tenere in vita, si potrebbe dire artificialmente, la Casa di Riposo è inutile. Il funzionario infatti vuol chiudere questa storia, in tale direzione ha già deliberato l'estinzione dell'Istituto, ma è difficile liquidare facilmente una situazione che oggi vede alcuni dei dipendenti della Casa di Riposo che non ricevono lo stipendio da ben 5 anni e mezzo, situazione da cui sono scaturite a procedure tuttora pendenti presso il giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca. Eppure, la legge 22 del 1986 stabilisce che in caso di liquidazione di una Casa di Riposo pubblica, immobile e personale transitino al Comune di riferimento. Scenario che, figuriamoci, non si può concretizzare per ovvie ragioni a partire da un aggravio di onere a carico di un Comune, ma la stessa cosa vale oggi per tutti i Comuni, che non può certamente sobbarcarsi i costi ulteriori rispetto a quelli che già deve fronteggiare ogni giorno. Tanto è vero questo che sull'applicabilità di questa norma non solo la stessa Corte dei Conti ha manifestato delle riserve, ma la questione è tuttora in fase di valutazione addirittura da parte della Corte Costituzionale. Vicenda dunque complessa, che rileva sotto diversi punti di vista, con una riflessione necessaria che tocca perfino la stessa struttura del welfare in un territorio, quello siciliano, che quando ha avuto bisogno di recuperare delle somme non ha esitato minimamente a intaccare i diritti delle fasce più deboli della popolazione. Nel caso di una casa di riposo le fasce deboli sono rappresentate sia dagli assistiti, sia dagli operatori. La soppressione, che ormai appane comunque inevitabile, della casa di riposo rizzuta in sacro cuore è dunque quello che può essere definito come uno strappo di significato sociale, tutt'altro che indifferente, che si inquadra anche nel senso stesso di una comunità, nella fattispecie quella calta bellottese, che è costretta ad aggiornare il lungo elenco di problemi che è chiamata giornalmente a fronteggiare. Sbarchi fantasma, altra denuncia di mare amico sui barconi utilizzati dai migranti per arrivare sulle coste siciliane e lì abbandonati. L'ultimo caso riguarda il peschereccio tunisino di circa 10 metri, arrivato assolutamente indisturbato qualche giorno fa a Capobianco di Reclamino, senza che nessuno dei circa 40 migranti sia stato bloccato. Il giorno successivo allo sbarco, la capitaneria di Porto Empedocle era intervenuta per cercare di trainare la barca in un posto sicuro, ma ogni tentativo è stato vano. La barca è infatti affondata, disseminando in un lungo tratto di costa rifiuti seriamente inquinanti. Nasce a Sciacca il movimento giovanile della democrazia cristiana. segretario è stato nominato il ragioniere Salvatore Di Giovanna. A nominarlo segretario cittadino è stato il segretario nazionale della DC, Angelo Sandri. Assicuro tutto il mio impegno per formare a Sciacca un gruppo di giovani della DC forte e coeso, ha dichiarato il neosegretario del movimento giovanile, nel rimarcare come la linea politica dei giovani della democrazia cristiana sarà fortemente centrista e alternativa alla sinistra, pertanto alternativa all'attuale amministrazione comunale. Borracce ecologiche sono state distribuite oggi dal Rotary Club di Sciacca agli alunni della prima media dell'Inveges nel corso di un'iniziativa che si è svolta nella sala Abruzzo del primo circolo didattico Giovanni XXIII che ha puntato sul valore dell'ambiente e contro l'uso della plastica. Sentiamo. Io mi sono avvicinato molto al tema dell'ambiente poiché è palese che ormai nel nostro mondo le nuove generazioni hanno il dovere di contribuire alla causa del miglioramento ambientale poiché ormai il nostro mondo è all'insegna dell'inquinamento e quindi è fondamentale cercare di contribuire a risparmiare più materiali, a riciclare. Credo che comunque questi progetti siano fondamentali poiché aiutano comunque le nuove generazioni a proiettarsi verso l'ecologia e quindi verso l'ecosostenibilità. L'ambiente al centro di un'iniziativa promossa dalla scuola Media Inveges in collaborazione con il Rotary, il WWF che si è svolta stamattina nella sala Abruzzo del primo circolo didattico Giovanni XXIII scuola diretta come la stessa Inveges da Gabriella Scaturro. La scuola vuole combattere la plastica e quindi liberiamoci dalla plastica e questo è il messaggio che diamo oggi ai ragazzi con il Rotary Club di Sciacca e con il WWF. È un messaggio forte per uno sviluppo equo, sostenibile e solidale. Ci sono degli indirizzi specifici in favore dell'ambientalismo nei confronti dei ragazzi? Assolutamente. Il MIUR nel 2017 ha dato delle indicazioni precise. Ero al Ministero, mi trovavo lì e quindi so esattamente, ho vissuto questa esperienza. Ma noi come scuola Inveges, la scuola statale media Inveges, abbiamo recepito queste indicazioni del MIUR e insieme agli organi territoriali, insieme alle autorità del territorio, del comune di Sciacca stiamo portando avanti questo punto come sfondo integratore del nostro piano dell'offerta formativa proprio nel rispetto delle indicazioni mondiali dell'ONU e anche delle indicazioni nazionali del MIUR. Durante la manifestazione sono stati presentati interessanti progetti svolti dagli stessi alunni. Abbiamo avuto il piacere di partecipare al progetto Una Pila alla Volta e siamo stati molto felici di togliere dalla circolazione una gran quantità di pile e impiegarle per la realizzazione del nostro corallo di Volta. Abbiamo scelto appunto il corallo perché ha segnato la storia di Sciacca e quindi realizzandolo siamo anche stati premiati e abbiamo vinto il secondo posto nella categoria Meridione e Isole. Ci siamo divertiti tantissimo a realizzare questo progetto tutto di pile. Avete trasformato le pile in qualcosa di estetico, di artistico? Sì, appunto il corallo. Il Rotary ha poi distribuito delle borracce ecologiche agli alunni della prima media. Consegnando le borracce noi diamo un indirizzo di non utilizzare più la plastica le bottigliette di plastica che loro giornalmente utilizzano nelle scuole. Il significato simbologico è forte perché noi dando 170 borracce non semplicemente sono sensibilizzati i ragazzi ma anche le famiglie, i parenti e la cerchia di amici che gira attorno a loro. Quindi è estremamente importante questo progetto. Andare a parlare con i ragazzi che sono i veri protagonisti del futuro è fondamentale perché è a loro che è affidato il pianeta, è a loro che sarà affidato il futuro ed è il loro futuro che deve essere rimodulato secondo schemi e parametri che finora non sono stati presi in considerazione, che il WWF ha sempre cercato di suggerire e finalmente i governi hanno cominciato a prendere in considerazione e in tal senso il movimento di Greta Thunberg e compagni è stato un movimento incredibilmente favorevole a questa nuova rivoluzione verde, a questa nuova rivoluzione ecologica che sta colpendo l'intero pianeta. Cosa pensi tu di questa lotta contro la plastica? Beh, comunque aiuta a salvaguardare il mondo perché comunque siamo un mondo che si sta perdendo e comunque noi siamo il futuro quindi serve anche a noi per migliorarci in futuro. Dopo la consegna delle chiavi da parte del libero consorzio di Agrigento alla scuola arriva il momento dell'inaugurazione della nuova palestra del liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca. Si svolgerà giovedì prossimo, 10 ottobre alle ore 9 e l'occasione servirà anche per inaugurare il nuovo anno scolastico 2019-2020. Bella serata sabato scorso allo Stazzone dove è tornato il tradizionale Minestrone, un'iniziativa promossa per la prima volta oltre 30 anni fa da Salvatore Marinello e che l'attuale comitato ha pensato di riproporre per continuare questa bella tradizione. Sentiamo il servizio. Una bellissima serata anche dal punto di vista climatico, quella di sabato scorso allo Stazzone dove su iniziativa del Comitato di Quartiere presieduto da Angelo Pumiglia è tornata un'antica tradizione assai cara agli stazzonari, il Minestrone. Già dalle fasi della preparazione l'iniziativa ha riscosso un grande coinvolgimento con oltre 20 persone, tra residenti e non e componenti del Comitato, che hanno lavorato per preparare la pietanza a base di verdure tutte di stagione. Ingredienti che sono stati dapprima accuratamente lavati, poi tagliati, poi messi a cucinare nel grande pentolone. Una volta pronto, il Minestrone è stato poi degustato dalle tante persone che hanno partecipato alla serata. Un'iniziativa introdotta tanti decenni fa da uno dei primi stazzonari, Salvatore Marinello, andata avanti per diversi anni, poi interrotta e ripresa qualche anno fa a scopo benefico dal precedente comitato e adesso riproposta dall'attuale Comitato di Quartiere guidato da Angelo Pumiglia. Assai apprezzato anche l'intrattenimento e la musica folk che hanno fatto da cornice alla serata. Importante è anche l'apporto di tutte le associazioni che si sono messe a disposizione per collaborare con il Comitato del Borgo dello Stazzone, We Help, Rotary Club, Kivanis, Fidapa, Innerwill e Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il minestrone tradizionale di sabato scorso ha chiuso gli eventi estivi organizzati dal Comitato che oggi manifesta la propria soddisfazione per la riuscita della serata sotto tutti i punti di vista e che guarda già alle nuove iniziative che intende promuovere e che saranno anche esse finalizzate alla valorizzazione della località balneare Sacciense. Adesso vediamo quale libro ci consiglia la Mondadori di Sciacca. La chiamavano Leila Tequila a casa e al lavoro nell'edificio color palissandro sulla viuzza cieca che acciottolava più verso il porto annidata fra una chiesa e una sinagoga negozi di lampadari e che babberie il vicolo che ospitava i più antichi bordelli autorizzati di Istanbul. Dieci minuti e trentotto secondi dopo che il cuore di Leila smette di battere la sua mente è in piena coscienza e quello che accade è sorprendente scene cruciali della sua esistenza rivivono attraverso il ricordo dei sapori più intensi che abbia mai provato. Lo stufato della capra che suo padre aveva sacrificato per celebrare la tanto attesa nascita di un figlio maschio la miscela di zucchero e limone che sobolliva sul fornello usata dalle donne per la ceretta mentre gli uomini andavano a pregare nella moschea il caffè scuro e forte al cardamomo per sempre legato alla via dei bordelli Leila sta morendo ma la sua anima lavora implorando di essere salvata mentre abbandona il corpo. Ma cosa è successo a Leila la prostituta trovata cadavere di fronte a un campo di calcio umido e buio dentro un bidone dell'immunizia con i mani cerrugginiti i miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo di Elif Shafak e di Torrizzoli Calcio, ottima prestazione per l'Unitas Shach che c'entra la terza vittoria consecutiva si porta al secondo posto in classifica dietro al duo di test rappresentato da Mazzarese e Partinica Audace protagonisti ancora una volta i gemelli del gol Cortese e Galluzzo a segno in quasi tutte le partite di inizio stagione. Terza vittoria consecutiva per l'Unitas Shach che al Gurrera supera per 2-1 il volenteroso Castel Termini ancora decisivi gli attaccanti Roberto Cortese e Pasquale Galluzzo autori di una rete a testa e un gol per tempo Nero Verdi che nonostante la supremazia territoriale si sono portati in vantaggio soltanto sul finire del primo tempo con Cortese autore della marcatura che stiamo vedendo in queste immagini in avvio di ripresa la seconda rete siglata da Pasquale Galluzzo su calcio di rigore partita gestita senza troppi timori con ospiti ordinati nel primo tempo ed incapaci di reagire nella seconda frazione solo nei minuti di recupero il Castel Termini è andato a segno con un calcio di rigore di piazza da segnalare tra le altre cose l'esordio stagionale di Bon Jovi e il consueto stadio colmo di tifosi questo il commento dell'allenatore Vincenzo Piazza al termine della partita è migliorato sicuramente che non buttiamo più la palla cerchiamo di giocarla di più e quindi ci siamo mossi anche meglio riusciamo a muovere meglio la palla e abbiamo delle buone occasioni per poter arrivare in porta più incisivi abbiamo giocato a sfavore vento all'inizio del primo tempo poi al secondo tempo abbiamo cercato di giocare sempre al nostro modo ci siamo riusciti niente di particolare che noi riusciamo a fare i 90 minuti e ce l'abbiamo già sulle gambe magari la squadra avversaria no ma ripeto noi siamo 25 persone che possono essere titolari come possono essere in panchina come possono giocare sempre la fortuna che è nostra che possiamo giocare sempre giochiamo contro una buona squadra quindi cerco sempre di mettere la migliore che ci possa essere durante anche gli allenamenti quindi da constatare già in queste settimane vediamo poi mercoledì cosa fare la classifica del girone A è corta ma comincia a delinearsi nessuna squadra è a punteggio pieno lo sciacca si ritrova al momento in piena bagarre nei quartieri alti della classifica insieme a Mazzarese Partini Caudace Nissa e Dolce Onorio Folgore e adesso occupiamoci di Fotosafari ottima prestazione per Santo Tirnetta per lo sciacca full immersion al campionato nazionale di Sestri Levante Tirnetta si è piazzato al secondo posto con le Reflex mentre la società quinta su 20 sodalizi partecipanti nel servizio c'è spazio anche per il podismo con la vittoria dell'atleta saccense Alberto Fieramosca alla gara di Mazzara del Vallo Bella affermazione della sciacca full immersion al 39esimo campionato italiano di Fotosafari che si è disputato a Sestri Levante in Liguria tra i protagonisti Antonino Guardino Alberto Falco e il presidente Santo Tirnetta La nostra società si è ben ben meritata la partecipazione a questo campionato soprattutto a livello giovanile perché Guardino Antonino 16 anni è stato il più giovane esordente nel campionato italiano e si è ben difeso perché nella sua categoria è arrivato secondo nella categoria esordienti e terzo Alberto Falco che l'anno scorso ha vinto quindi quest'anno che erano più competitive perché c'erano più ragazzi negli esordienti ha fatto il terzo posto quindi devo dire che prima parlo della mia squadra e dei miei giovani sono veramente contento perché Sciacca Full Immersion soprattutto grande anche grazie anche al supporto logistico che ci dà sempre la Lega Navale di Sciacca la sponsorizzazione che ci ha dato la Lega Navale di Sciacca siamo riusciti a portare avanti un altro campionato con degli ottimi risultati la squadra è stata pure una bella soddisfazione da parte mia perché nei campionati di squadra non erano mai competitivi perché mi mancava un secondo la squadra si fa praticamente con due partecipanti che partecipano a livello nazionale appunto per i colori della società quindi da quest'anno con noi c'è Giovanni Umbrello che viene da Palermo anche lui è un grande un grande subacqueo e soprattutto un ottimo fotografo di alti livelli e siamo riusciti a produrre foto di qualità molto belle e ci siamo aggiudicati il quinto posto su 20 società è già un bel risultato ed è forse il risultato più alto che fino ad adesso abbiamo fatto a livello di squadra invece poi nell'individuale nella mia categoria Lara Master che è quella con le reflex che tu ben sai mi sono difeso diciamo il secondo posto per soli 10 punti che sarebbe poi un tipo di pesce in più che potevo riuscire a trovare e fotografare non sono riuscito ad arrivare sul podio più alto quante sono le specie di pesce fotografate e anche per gli addetti lavori quali specie? allora bella domanda la qualità le specie che abbiamo fotografato in tutto il campionato praticamente gli apneisti che hanno la possibilità gli apneisti i master che hanno la possibilità di spaziare più sul campo sono riusciti a fare 62 specie come massimo quello che ha fatto di più poi altri due sono arrivati sui 60 58 ha fatto poi a seguire cioè 58 ha fatto Giampiero Liguori che ha vinto che è quello che nella mia categoria che ha fatto quei 10 punti in più ed ha vinto e io 57 una specie in meno che mi è mancata appunto e sono arrivato lì al secondo posto quindi mediamente si aggirava intorno alle 60 specie di pesce diverso la soddisfazione più grande che ho avuto io è che sono il best hunter del campionato che significa best hunter quello che ha saputo ricercare di più trovando due nuove specie che non ha fotografato nessuno soprattutto nei campionati italiani non si erano mai fotografate queste specie neppure nelle selettive poi la qualità è quella che è poi importante perché i pesci vengono classificati soprattutto in base alla difficoltà nel fotografarli in che senso se è un pesce pelagico o quindi una ricciola in questo caso è difficile farsi avvicinare da una ricciola quindi la ricciola tende sempre a scappare o un pesce bianco che viene chiamato come i saraghi le mormore che stanno sulla sabbia che sono anche loro abbastanza diffidenti e non si fanno avvicinare o la cernia che non si fa avvicinare questi pesci se riesci a fotografarli e riesci a portarli poi in giuria hanno un valore maggiore nella stessa gara secondo posto invece per il saccense Vincenzo Bono tesserato per un sodalizio palermitano che gareggiava nella categoria ara compatte e passiamo al podismo il saccense Alberto Fieramosca ha vinto la quinta gara podistica Mazzara città del pesce Memorial Mimmo Catania Grand Prix di corsa su strada per la provincia del Grigento la gara si è sviluppata su un circuito cittadino di poco meno di due chilometri ripetuto cinque volte per un totale di quasi dieci chilometri l'evento podistico ha previsto una competizione amatoriale una agonistica vera e propria ed anche un momento dedicato ai diversamente abili in collaborazione con l'associazione Abilmente Uniti Ondus vittoria come detto per il presidente della Marathon Club Sciacca Alberto Fieramosca che si prende il lusso di vincere con distacco la gara di Mazzara con il tempo di 34 minuti e 48 secondi la gara femminile è stata vinta da Azzurra a Grusa tesserata con la Cinque Torri Trapani oltre a Fieramosca gli altri saccensi della Marathon in gara sono stati Enzo Fazio Luciano Casandra e Vito Bono i premiati Alberto Fieramosca primo assoluto è primo nella SM45 ed Enzo Fazio primo nella categoria SM50 ottime prestazioni anche per Luciano Casandra e Vito Bono e siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale ancora una volta grazie per essere stati con noi Grazie a tutti